Alessandro, qual è il tuo tema? Oggi vi parlo dei doveri dei giovani. A te il palco, Alessandro. Prima il dovere, poi il piacere. Quanti di voi in quest'aula si ritrovano in questa antica massima? Alzino la mano. Beh no, quasi tutti. Mi dispiace per voi, però è una buona notizia, eh? Sicura, sicura, ve lo assicuro. No, dico questo perché vi devo confessare che nella mia pur breve esperienza a me è capitato di soffrire moltissimo per questo modo comune di concepire, di pensare, di vivere il senso del dovere, che a me sembrava una cosa bellissima, ma che invece in certi momenti mi ha fatto molto, molto male. Vi assicuro sulla mia pelle che una concezione distorta del dovere fa più danni che i mercanti e i militari al governo che, come saprete tutti, secondo Platone, era una delle più grandi sfighe che potessero capitare a un popolo. che cosa intendo? Vi spiego meglio. Qualche esempio. Quando avevo dieci anni, mio padre mi diceva, tesoro mio, le relazioni sentimentali sono prima di tutto un dovere, poi dopo tu prima te le impari a gestire, te le controlli, poi dopo te le godi. Ecco io, alla mia quinta relazione esplosa a mille pezzi nelle mie mani, ancora mi sto facendo delle domande su che cosa significhi, che cosa volesse lui intendere con questa frase. Anche la mia psicologa è abbastanza confusa, ne stiamo ancora parlando. Poi sono arrivato a scuola, l'abbiamo vissuto da tutti. Lì c'era un sottilissimo modo di farmi intendere, con un metodo pedagogico avanzatissimo, cioè che viene dal nord Europa, proprio dalla Danimarca, importato, che si chiama bastone e carota, che se non fossi stato il più bravo, non solo della classe, ma proprio della scuola, dell'istituto, del comprensorio, del rione, e quasi quasi non solo gli insegnanti, ma anche i genitori mi avrebbero ritirato quel patentino di stima, di rispetto, d'ammirazione. Un vero e proprio ricatto emotivo. Poi sono arrivato qua all'università, sono approdato. Come saprete, il dovere che si sente un po' in giro è questo. Spicciati! Ti devi sbrigare ad accumulare più crediti possibili. Ti devi sbrigare ad uscire fuori di qui con il massimo punteggio che puoi, altrimenti non sarà appetibile per il mondo del lavoro, tutti ti metteranno i piedi in testa e tu finirai a frequentare la Caritas vicino termini, cioè del presente. Io sono sicuro, mi ci gioco quello che volete, che quando uscirò di qui i miei doveri saranno pressappoco questi. Obbedire, anzi amare le leggi, senza però stare troppo a chiedermi, a verificare personalmente se abbiano un fondamento di giustizia, o se che ne so, se siano arbitrarie o addirittura tiranniche, perché no, può succedere. Pagare le tasse senza pretendere di sapere con precisione la loro destinazione finale. E che te frega a te. E chi lo sa, prima o poi, partire per qualche guerra giusta. Poi ragazzi, non so voi, ma io sento un po' di parlare a nome di tutta la mia generazione quando dico che se questo è la concezione di dovere che ci viene presentata come normale dalla società, bah, tenetevela al diavolo. basta, basta, ci fa male. Noi vogliamo un dovere che ci dia più vita. Più vita. Ma chi oggi ci parla di questo? Chi ci parla di questo oggi? I morti. Qualche morto. Particolare uno. Si chiamava Giuseppe Mazzini. Lo conoscerete? Conoscetelo, se non lo conoscerete. Che circa 150 anni fa, in un opuscolo bellissimo che si chiamava Dei doveri dell'uomo, che ancora rompe le scatole a un sacco di gente, che dice ancora delle cose scomodissime, parlava appunto dei doveri dell'uomo. Allora, quel matto del mio professore del liceo, proprio qua a Tor Vergata, anzi no, delle medie, quando avevo solo 13 anni, mi consigliò di leggere questo libro. All'epoca non ci avevo capito niente, ma manco il titolo. Però per fortuna l'ho ripreso un mesetto fa. L'ho riletto. E quindi ho avuto l'opportunità di farmi due chiacchiere con Mazzini. La cosa è andata più o meno così, eh. Adesso vi dico. C'ero io così. Oddio Giuseppe! Oddio mamma mia! Vederti qua! Guarda, è proprio una cosa, è passato tanto tempo! Che onore, che piacere! Ti posso chiamare Giuseppe, non è che ti offendi. Guarda, se vuoi, dato che è un'occasione storica, ci andiamo qua vicino a prendere una birra, offro tutto io oggi, una carbonara che sicuro ti piace, ti fai una mangiata di quelli che non mangi da 150 anni, ci avrei un po' di fame. E lui mi ha detto. Non ho tempo da perdere. E neanche tu in realtà, stai già sforando i tempi dello speech. E io. O speech? Ah, tu dici. Vabbè, allora, guarda, andiamo al sodo, eh. Perché io adesso che stai qua, che non è una cosa che capita tutti i giorni, io ti dovrei dire delle cose, proprio ti voglio chiedere delle cose importanti della mia vita. A Giuseppe, ma io che devo fare? Dimelo a te. Ah, faccio più. Tu vuoi sapere quale sia il tuo vero dovere che non deriva da un'imposizione esterna e che non sia una triste abitudine? Eh, bravo, bravo. Proprio quello che hai detto, guarda, non l'avrei saputo di in modo migliore, proprio. Ma hai tolto le parole di bocca. Beh, è molto semplice in realtà. Hai mai considerato il fatto che tu sei un animale sociale, ragionevole e capace di amore? Beh, non devi fare altro che imparare ad associarti, a relazionarti, a pensare e ad amare. Eh, ma certo, ma perché non ci ho pensato prima? Cioè, è così semplice pensare, cioè, amare. Guarda, io dopo ti faccio parlare con i miei amici, con i miei parenti, ti dimostro, guarda, io già ci sto lavorando tantissimo su queste cose, cioè, ho capito… Ma cioè? E cioè, tu non devi pensare a inseguire falsi scopi, piaceri immediati e materiali, e sicurezze illusorie, come fanno molte persone della tua epoca. Tu non devi pensare ad altro che a rendere te stesso e gli altri migliori. Migliori, migliori, certo, migliori. C'è ragione, ma è una cosa proprio… Io tutte le mattine, ti giuro, appena mi sveglio, dico migliori. Proprio la prima parola che mi viene in mente. Me stesso e gli altri migliori. Guarda… Ma cioè, non è che… Cioè? E cioè, cioè, ma non è che ti posso dire sempre tutto io, però? Cioè, arrivaci anche un po' da solo. Ma tu non sei da Genova, ma com'è che parli romano? Che è successo? Io sono morto, posso parlare le lingue che mi pare? Parlo romano che così mi capisci, perché altrimenti non capisci neanche l'italiano, figurati il genovese. Allora, ricominciamo. È molto facile in realtà. Ti devi ricordare solo che il tuo vero dovere è l'azione che sgorga dal tuo cuore purificato dalla paura. Se la tua opera deriva dall'amore in modo naturale e non dal senso di colpa e dal timore, sei sulla buona strada. E poi ricordati che non c'è un unico dovere uguale per tutti. Ognuno è qui… Ah, perché? Tu pensavi che eri qua per caso. Voi pensate di essere qua per caso. Voi siete qui perché avete un determinato dovere, una missione che voi e solo voi potete portare a termine in virtù delle vostre doti innate. Nessun altro può farlo. Ed è un dovere inedito, inaudito. Non c'è un modello esterno. Dovete cercarlo dentro di voi. Hai capito adesso? Sì, diciamo che se proprio lo guardo dall'alto un po' a volo d'uccello, c'è una trospettiva un po' ampia mi pare di aver capito. Però senti, non è che mi vuoi dare un suggerimento un po' più concreto, un po' più particolare che io domani lo posso mettere qua sulla terra. E va bene, allora guardala così. Cosa faresti se avessi gli ultimi dieci minuti della tua vita a disposizione? Questa risposta potrebbe avvicinarti almeno di un passo al tuo vero dovere. E non aver timore di fallire perché Dio non guarda le forze, guarda solo le intenzioni. Addio. Oddio, grazie, grazie, grazie. Grazie Giuseppe, guarda, mi hai svoltato la giornata. Cioè io stavo proprio, mi ero alzato proprio col piede così, mi hai detto queste cose, ho capito tutto, ma da oggi in poi, guarda, ciao, grazie. Simpatico il vecchietto. Però un po' vago, non è che proprio... Avete capito qualcosa? No, però infatti... Però sta cosa dei dieci minuti è intrigante, non trovate. Mi intriga molto. Allora io voglio chiedere a ognuno di voi, compagni della mia generazione, che cosa fareste se aveste gli ultimi dieci minuti della vostra vita a disposizione? E poi c'è una proposta divertentissima, ragazzi. Cioè su questo giochiamoci tutto! Cioè puntiamoci! All in! Ma scusate, ma che ci abbiamo da perdere? Me lo dite? Che ci abbiamo da perdere ormai? Non so. Secondo me niente. Ma voi pensate davvero di avere qualcosa di meglio da fare? Io no. Grazie.